La memoria spesso viene vista come un grande peso, come una cosa che ci crea difficoltà. La memoria può però anche essere un dono e di questo adesso ci parlerà l'avvocato Arnaldo Lono che ha rivestito un ruolo importante nel processo contro Mischa Seifert rappresentando il comune di Bolzano nel procedimento giudiziario che ha portato poi anche all'arresto e all'esecuzione dell'arresto di Mischa Seifert. Prego, avvocato Lonar. Diceva il moderatore che la memoria è un dono e in effetti è scontato che la memoria è un elemento essenziale nella vita degli esseri umani. Tant'è vero che la mancanza o la perdita della memoria concretizza una grave situazione purtroppo incurabile di malattia. Quindi la memoria è fondamentale nella vita degli esseri umani. Ma la memoria di cui voglio parlare io stasera è una memoria particolare che ha delle caratteristiche proprie. La memoria delle stragi nazi-fasciste, la memoria della SOA, dell'Olocausto. È un tipo di memoria che ha delle caratteristiche essenziali e fondamentali per la vita della società civile. La memoria è anzitutto un dovere, un obbligo nei confronti delle vittime, dei loro familiari, dei discendenti. È un dovere, un tributo che noi dobbiamo dare alle vittime dell'Olocausto e ai sopravvissuti. Quindi è un dovere morale, un obbligo morale. Ricordo che Simon Visenthal, in una intervista rilasciata pochi mesi prima della sua morte, disse Quando sarò all'altro mondo e incontrerò i milioni di ebrei sterminati nei lager nazisti, se mi chiederanno che cosa ho fatto, io risponderò con una brevissima frase. Io non vi ho dimenticati. Questo disse Visenthal. Perché la memoria è veramente la sostanza del tributo che noi dobbiamo alle vittime dell'Olocausto. Ma non è soltanto un dovere, un obbligo. È anche una risposta a una domanda. Noi non dobbiamo dimenticare che Primo Levi e tutti gli altri memorialisti, tutti gli altri che sono sopravvissuti, hanno voluto raccontare, tra cui abbiamo uno straordinario esempio questa sera, appunto, il signor Carl Vogel qui presente, hanno chiesto, hanno voluto che si sapesse, hanno voluto che la memoria fosse radicata. Io vi leggo quello che ha scritto Primo Levi nella prefazione al suo libro Insommersi e i salvati. I militi delle SS si divertivano ad ammonire cinicamente i prigionieri. In qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l'abbiamo vinta. L'abbiamo vinta noi. Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non li crederà. E quando anche qualche prova dovesse rimanere e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti. Primo Levi qui anticipa anche quella che sarà, e che è oggi il grande problema del negazionismo, degli assassini della memoria. Perché Primo Levi ci dice sì, ci hanno detto che non avremmo potuto raccontare e che se avessimo potuto raccontare non saremmo stati creduti. E per questo Levi e mille altri, Jeanne Améry, i grandi memorialisti, ma anche le persone umili che hanno scritto il racconto della loro vita nei lager, hanno risposto a questa necessità di comunicare, hanno risposto a questa volontà di far sapere. Addirittura mi è arrivato pochi giorni fa un libro che mi ha mandato il dottor Costantini, procuratore militare nel processo contro Seifert. Mi ha mandato un libro di una ragazza di Venezia che ha scritto la storia della sua vita durante la guerra, durante il nazismo e il fascismo, a quasi 90 anni. C'è gente che adesso sente ancora la necessità di raccontare, sente la necessità di parlare. E noi a questa risposta, a questa domanda, cioè dobbiamo dare una risposta e dobbiamo portare avanti questo discorso. Anche perché, signori, la memoria di oggi non è più la memoria vissuta. Quella del signor Carl Fogger è una memoria vissuta. Lui è un testimone diretto. Lui può raccontare la propria esperienza. Ma la memoria di oggi è una memoria che non è più vissuta. E non è la memoria dei testimoni, ma è la memoria di coloro che sanno e che devono trasmettere. Questa è la componente fondamentale della memoria di oggi. La trasmissione della memoria. Perché i testimoni diretti, quelli che hanno vissuto gli orori del nazismo, ormai sono quasi tutti scomparsi. La trasmissione quindi diventa l'elemento fondamentale verso il futuro, proiettato verso il futuro. E quindi la trasmissione della memoria, di cui un esempio straordinario, questo bellissimo libro di Sabine Meyer e di Joachim Inerofer. Questo è un contributo fondamentale. È un pilastro della memoria trasmessa. Quando io vado nelle scuole, e ci vado molto spesso, ho girato tutto il nord-est, a raccontare la storia del lager di Bolzano e la storia del caporale dell'SS, Michael Seifert, che nel lager di Bolzano ha ucciso, se viziato, torturato, ed è stato condannato all'ergastolo per 11 omicidi accertati. In realtà sono stati molti di più. Quando io racconto queste vicende ai giovani, che spesso non sanno assolutamente nulla, faccio una parentesi, l'altro giorno a Trento un medico mi ha detto ma perché ho parlato un attimo del lager di Bolzano? Dice, ma come? A Bolzano c'era un lager? Perché l'ignoranza è estremamente diffusa. Quando entro nelle scuole io dico, voi avete un compito importantissimo, voi dovete trasmettere la memoria, ma qual è il presupposto per ricordare? Signori, non si può ricordare quello che non si sa, non si può ricordare quello che non si conosce. Quindi la memoria richiede impegno, richiede conoscenza, richiede questo sforzo di acquisire un sapere che va portato avanti, che va trasmesso. Perché la memoria è un dovere, non solo verso le vittime, ma anche verso noi stessi. Noi abbiamo il dovere di ricordare, se vogliamo realizzarci come persone, se vogliamo essere uomini di una società civile. Abbiamo il dovere di sapere, abbiamo il dovere di ricordare. Sarò sintetico, perché il tempo a disposizione è poco, il discorso sulla memoria è amplissimo, un discorso bastissimo, e soprattutto anche sulla memoria delle stragi nazifasciste. Noi vediamo che da questo mondo di vittime, per quello dicevo oggi, il tema della memoria è importante e non è estraneo all'argomento della giornata, perché dove ci sono, questa è una serata sulle vittime, sulle vittime ebraiche di Merano, dove ci sono vittime ci deve essere la memoria, perché l'oblio diventa un'offesa, diventa una specie di rifiuto verso coloro che hanno sofferto. Non possiamo lasciare, come è successo per decenni, perché badate che la memoria, per fortuna, in questi ultimi vent'anni, ha avuto veramente uno sviluppo importante e vigoroso, ma per decenni si è tacciuto, per decenni si è nascosto. Allora dicevo, la memoria non è soltanto un dovere verso gli altri, è un dovere verso di noi. Noi abbiamo il dovere di sapere, abbiamo il dovere di informarci e abbiamo il dovere, nei limiti dei nostri ruoli e delle nostre possibilità, di trasmettere questo sapere. Ma, un'ulteriore considerazione, la memoria è anche una difesa. La memoria non è soltanto, come dicevo prima, rispetto verso le vittime, il ricordo che dobbiamo portare come tributo al loro sacrificio, è anche una difesa, contro il risorgere dei fantasmi del passato. Ci sono gli assassini della memoria, e gli assassini della memoria, che un tempo erano, in un certo modo, ristretti e condizionati dalle difficoltà di comunicazione, perché un tempo i negazionisti, gli Eichmann di carta, come sono stati giustamente definiti, avevano delle riviste, avevano delle pubblicazioni, ma le possibilità di trasmettere il loro menzognero e nefasto pensiero erano in un certo modo abbastanza ridotte. Adesso, attraverso la rete, il messaggio del negazionismo arriva dappertutto. E la fonte di questo negazionismo, oltre che, a volte, l'istinto fanatico e criminale, è l'ignoranza. Quando noi vediamo marciare quei ragazzotti con le teste rasate e le bandiere che ricordano il nazismo, noi dobbiamo pensare che non siamo di fronte così soltanto dei fanatici, a volte, non lo sono neanche in troce, ma siamo di fronte alla più grande delle ignoranze, siamo di fronte a quelli che non sanno. Chi, quando nelle scuole io racconto quello che succedeva nel Lager di Bolzano, dove le signore Voghera, madre e figlia, erano state lasciate nude in una cella con 15 gradi sotto zero d'inverno e il caporale dell'SS Seifert appriva la porta della cella e lanciava delle secchiate d'acqua su queste povere donne che poi furono uccise, strangolate, quando i giovani sentono questo, come possono i giovani di fronte a queste realtà vere, fondate, come possono domani praticare un'ideologia che in qualche modo possa ispirarsi al nazifascismo? Quindi la comunicazione, il sapere è fondamentale e noi dobbiamo batterci per questo sapere. Io ho tratto questa grande esperienza dal processo Seifert che è stato uno dei pochi processi, il secondo, vale la pena di ricordarlo, in Italia ci sono due processi che hanno avuto un circolo chiuso che sono passati dal processo alla condanna all'esecuzione della pena, Pripke e Seifert. Ci sono stati centinaia, migliaia di criminali che sono sfuggiti alla giustizia. Il processo Seifert celebrato dal tribunale di Verona che ha condannato Seifert all'ergastolo non solo è arrivato alla condanna ma siamo riusciti ad andare a prenderlo in Canada dove era scappato nel 51, l'abbiamo portato nel carcere di Santa Maria a Capovetre dove è morto, morto in prigione. Quindi la giustizia una volta tanto si è realizzata. Quindi la difesa che noi, la memoria deve essere la difesa per noi per contrastare l'insorgere dei fantasmi del passato. Faccio un'ultima considerazione. Nel processo di Verona io ho ricordato una cosa e la ricordo sempre quando parlo dei grandi memorialisti tipo Primo Levi, Ameri eccetera che ci hanno detto una cosa. Ameri scrive nel suo bellissimo libro intellettuale ad Auschwitz scrive io ho dimenticato il dolore delle ferite. Era stato torturato a Parigi dalla Gestapo rinchiuso poi ad Auschwitz e naturalmente aveva sofferto le sofferenze che gli internati ad Auschwitz soffrono. Ma io ho dimenticato le cicatrici sul mio corpo si sono risanate. Quello che io non posso dimenticare è che un altro uomo mi ha fatto questo. Questa è la grande tragedia dei sopravvissuti. non il dolore non le sofferenze che certamente sono importanti e gravissime ma questa coscienza questa mancanza di speranza per il futuro. Dice Ameri ma io non posso sperare nel futuro io non posso sperare in un mondo migliore perché un altro uomo mi ha fatto questo. Uno come me uno che abitava magari il ragioniere che stava nella casa di fronte alla mia e questa è la difficoltà estrema dei sopravvissuti che poi questa difficoltà non la superano perché Ameri come Levi si è suicidato molti anni dopo il suo ritorno in Francia dopo la liberazione d'Asia molti non superano questa difficoltà di mancanza di speranza e si tolgono la vita. E allora la mia risposta è stata al tribunale di Verona io dissi beh noi una risposta veramente la possiamo dare non è che non sia possibile la risposta come hanno detto alcuni alcuni di questi grandi scrittori dell'Olocausto la risposta è possibile noi possiamo dire un uomo ti ha fatto questo ma altri uomini ti hanno reso giustizia e altri uomini portano avanti la memoria il ricordo combattono contrastano l'ignoranza e diciamo il fanatismo e questa è l'unica risposta che siamo in grado che dobbiamo dare grazie 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 a tutti